Hai una luce unica, Anna, ce l'hai negli occhi, ce l'hai nella mente. Nella mente sì, la mente funziona. Figlia di Iorio, possiamo dire un personaggio preferito, insomma, nei fatti davvero tanti. Beh sì, però la figlia di Iorio è veramente uno dei prediletti. Perché? Beh perché, intanto, un testo, un capolavoro, perché D'Annunzio, quando ci si metteva, poteva essere un grandissimo poeta. E poi è un testo in versi, poi è una storia d'amore meravigliosa. Poi si è combinata anche con l'inizio della storia con Albertazzi. Quindi insomma le scene d'amore erano un po' a doppio significato che facevamo in scena. Senti gli uccellini. Questi sono gli uccellini che stanno andando a nanna, nelle mie canne, nei miei bambù. Che carini. Cioè tanto vero. Se vi dà fastidio potete chiudere la finestra, però è un sottofondo che io amo molto. È bellissimo. Ecco che torna... Sai che per due o tre giorni si vede era passato un falco e per paura sono andati via. Io a quest'ora non sentivo questo rumore e soffrivo. Adesso li risento. Ecco l'appuntamento, l'appuntamento col tempo, l'appuntamento con la musica, con il rumore, il rumore che può diventare musica. Dicevamo la figlia di Iorio, un grande testo, l'incontro con Albertazzi, ma poi torneremo ad Albertazzi. Uno dei grandi incontri, quasi un innamoramento con Vittorio Gasman. Vittorio Gasman... Dolce creatura, io l'ho amato molto. Sono stata felice di fare con lui, ho fatto con lui tre anni di compagnia, va bene, dal 52 al 55, cioè prima del rapporto con Albertazzi, prima della compagnia Proclaimera Albertazzi. E poi abbiamo fatto questo Significare per Verba all'Argentina, che credo fosse uno degli ultimi spettacoli che lui ha fatto. Era il 1993, Significare per Verba, proprio uno degli ultimi spettacoli di Vittorio Gasman. Il ricordo forte che hai in te sono le mani fredde quando uscivate, no? Per i ringraziamenti. E vediamo un frammento da Significare per Verba, Anna Proclaimer, Vittorio Gasman. Figlio occhi ocundi, figlio conorespundi, figlio perché tascundi dal pecto sei lactato. Mamma, dove sei venuta, mortal me dai feruta, che il piagner tuo me stuta, che il veggio sia afferato. Piango canaggio anvito, figlio, pate e marito, figlio chi t'ha ferito, figlio chi t'ha spogliato. Mamma, perché te lagni? Voglio che tu remagni, che serve agli compagni che al mondo ha giù acquistato. Figlio, questo non dire. Voglio teco morire, non me voglio partire finché mo' mesce il fiato. Cuna già in sepoltura, figlio di mamma scura, trovarsi in affrantura, mate figlio affocato. Anna Proclaimer, Vittorio Gasman, dopo 40 anni, perché la compagnia, no? In compagnia con Gasman, 52, 53. 52 al 55, quindi tre anni, e poi al 93. 93, dopo 40 anni. Mamma mia. Ci si ritrova. E quando uscisti dalla compagnia nel 53 appunto, nel 55, non era soltanto la porta di un camerino che mi chiudeva alle spalle, mi stavo chiudendo alle spalle la mia giovinezza, per cui costretta a diventare adulta. Sì, eh sì. Sai, 55, ci avevo, quanti, madonna, non so fare i conti. No, non li facciamo i conti. Non li facciamo. Sì, era stato il periodo in cui avevo smesso di fare il teatro come dilettante di lusso, e l'avevo fatto, ho cominciato con Vittorio, proprio battendo la provincia, con le tournée, con i paesi, dissodando l'Italia. Il pubblico italiano, la provincia italiana, era, era, si apriva una nuova fase, insomma. Eh certo, uscivamo dalla guerra. Sì. Enfrey Bogart. Oh carino. Vedo che tu vai a spiare nel mio sito però delle cose. Nello sito, beh, ricordiamola ai nostri telespettatori www.annaproclamer.it Io e Giovanna Ciorciolini ci stiamo appassionando, è un viaggio, io poi che amo la memoria, amo gli attori, amo la vita degli attori, non posso non godere navigando nel tuo sito. Beh, c'è un aneddoto molto carino riferito ad Enfrey Bogart. Vuoi che te lo racconti? Perché io stavo facendo una piccolissima parte, un cammeo, come si dice, in Viaggio in Italia, di Rossellini con Ingrid Bergman e George Sanders. Un cammeo che piace tanto, non so perché, perché a me pare ridicolo, ma insomma, di una prostituta, era proprio una, erano due giorni di lavoro. E una sera capitò a Napoli a trovare Ingrid e Anfrey Bogart. Il suo amico avevano fatto qualche anno prima il famoso Casablanca, che io ho adorato, che io conosco, conosco in tutte le sue sfumature. E vedere, insomma, questi due, lì davanti, con il bicchiere di Martini in mano, mi fece molto effetto, insomma. E se non che Rossellini dice, Anna dice, noi andiamo allora, andiamo a cena al Vomero, li porti tu, Ingrid Boghi? Ingrid Boghi. Sì, dico sì, volentieri. Io avevo una 1100E, avevo la patente da un mese, avevo una macchinetta proprio squallida, ma non era una macchina, me ne fregavo, avevo paura della mia capacità di guidatrice. Anche perché andare al Vomero a Napoli significa fare un sacco di tornanti, così. A quei tempi bisogna fare il doppio de braillage, perché non c'erano le marce sincronizzate che ci sono adesso. E quindi avevo la Bergman, Anfrey Bogart e George Sanders nella macchina. Sudavo freddo dal terrore, ogni tanto grattavo una marcia, però loro chiacchieravano, poi parlando in inglese, io lo parlo benino, però, insomma, è sempre un'attenzione. E poi soprattutto questi due miti, per me... erano i miti, la guida, l'insicura, l'inglese... L'inglese... E poi, insomma, questo Bogart era fascinosino, era proprio piccolotto, così, però molto fascinoso. E insomma, arrivai tremante alla porta del ristorante. E entrando in questa porta girevole, lui mi guardò e mi mise una mano su... Lì? Lì, dietro, insomma. E lo guardai con una tale riconoscenza, perché veramente questo mito si era fatto uomo, ecco. Che meraviglia! Il mito, il cinema, ti manca un grande successo cinematografico? Prima dicevi questa particina, al fondo il teatro, del cinema, ma poi... Ma il cinema, sai... Dà all'attore l'illusione di restare eterno, in qualche maniera. Sì, sì, no, il cinema... Io l'ho un po' snobbato, ma è soprattutto il cinema che ha snobbato me. Nel senso che, sai, a quel tempo è cominciato il neorealismo, poi le maggiorate, poi la commedia l'italiana comica. Sì, tu forse troppo raffinata, troppo avanti. No, non mi offrirono quasi niente, quel poco che mi offrirono non valeva la pena, però mi è dispiaciuto, perché non c'era quello scambio in Italia che c'è stato in altri paesi. È vero. È vero. Jean Moreau era un'attrice di teatro e di cinema, Anne Bancroft ha fatto... Grande attrice. Ha fatto... Anna dei Miracoli in teatro e poi l'ha fatta al cinema, ha vinto pure un Oscar. Io in cinema nessuno ci pensava. Hai dato la voce alla Bancroft? Sì, ero più brava io comunque. Mamma mia, pazzo dell'intelligenza. Allora, andiamo al 1959, vediamo un frammento da un bellissimo lavoro per la televisione, L'Idiota. Vi leggo soltanto qualche nome, Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Gian Maria Volontè, Sergio Tofano, Lina Volonghi, Gianni Santuccio, Anna Maria Guarnieri. Non mancava davvero quasi nessuno. Ti vediamo in una scena non accanto a Giorgio Albertazzi, ma accanto all'indimenticabile Gian Maria Volontè.